Terribile lutto poche ore fa, l'addio sui social network è sconvolgente. Tutti i dettagli sull'increscioso e inatteso accaduto. Dating show pomeridiano seguitissimo in tutta Italia, uomini e donne è un programma che è costantemente sulla bocca della gente a causa degli avvenimenti che, quotidianamente, hanno luogo negli studi Elius in Roma. Difatti, ciò che è successo in queste ore sta facendo rimanere senza parole tutti gli ammiratori della trasmissione di Maria De Filippi. Che cosa è accaduto? Sfortunatamente, si è verificato un episodio orribile. Di che cosa si tratta? Lo show del primo pomeriggio di Queen Mary De Filippi è da sempre molto seguito dal pubblico di Canale 5 grazie alle intuizioni della padrona di casa. Effettivamente, Uomini e Donne è uno dei programmi più visti di Mediaset. Senz'altro, ciò si deve al fatto che le persone si identificano molto con chi va a trovare l'anima gemella nel programma della moglie di Maurizio Costanzo. Difatti, il contenuto ha come obiettivo di trasmettere la vita vera. Ed è, purtroppo, proprio in queste ore che ha avuto luogo un terribile lutto che ha lasciato gli amanti di Wed assolutamente senza parole. Di chi si tratta? Chi è venuto a mancare? Scopriamolo insieme. Uomini e donne, l'addio sui social è sconvolgente. Ebbene sì, purtroppo negli ultimi minuti si è verificata una grande perdita che ha a che fare con la grande famiglia del programma del biscione. Ma di chi si tratta? Che cosa è successo? Da ciò che si apprende, ad aver subito il lutto è un ex corteggiatore e tronista molto amato. Scopriamo tutto nel dettaglio. Il protagonista del parterre classico di Uomini e Donne è l'argentino Fabio Coloricchio. Il giovane uomo, sfortunatamente, ha perso la sua amatissima nonna Antonia pochi mesi prima della nascita di sua figlia Gala, che avrà dalla sua compagna Violeta Mangrinan, conosciuta all'isola dei famosi Spagnola, Supervivientes. Ad aver annunciato l'accaduto è stato il diretto interessato con una story su Instagram. In essa, ha postato un dolce scatto che lo ritrai da bambino con la nonna, appunto. Queste sono state le sue parole. È un peccato che non conoscerai la piccola gala, ma so che starai sempre qui con noi ti amo nonna. Finalmente ti rincontrerai con lo zio. Grazie per esserti presa tanto cura di tutti. Sei un esempio di vita. La dolce metà di Coloricchio ci ha tenuto a ringraziare tutte quelle persone che hanno inviato messaggi di cordoglio mentre il suo Fabio è partito per l'Argentina. Anche lei, tramite una story su Instagram, ha scritto. Ragazzi, grazie infinite per i vostri messaggi di sostegno nei confronti di Fabio, e per le vostre preghiere per la sua nonnina Antonia, punto un angelo è salito in cielo e ci guiderà da lì. Ha poi concluso. Sono sicura che una parte di lei vivrà in gala e la proteggerà sempre. Grazie a tutti.